come mettere così la lingua italiano su ready or not ovviamente se il gioco anche la lingua italiano però tu hai un'altra lingua installata sul gioco non riesce a mettere la tua lingua quindi in questo caso possiamo direttamente entrare nella cartella di ready or not direttamente sulla libreria quindi vai direttamente nella sua cartella ed eccola qua quindi in questo caso se ti ritrovi così un file di nome steam trattino basso emu all'interno del file e c'è language due undini al posto di english metti italiana invece se ti ritrovi così un file di nome online fix punto iny ci clicchi dentro e vai così a mettere italiana sul language da english metti italiana una volta fatto entriamo così nel gioco per vedere se abbiamo sbloccato così questa opzione nel cambiare la lingua quindi entriamo su ready or not come puoi vedere la lingua è in italiano quindi nuova partita giocatore singolo multi giocatori andiamo su opzione lingua del testo italiano a prima questa opzione era bloccato e quindi risolto tramite i file nella sua cartella per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao